Ciao, sono Lorenzo Poli. Ho avuto la fortuna di prendere parte a questo progetto che trovo veramente innovativo, creato da Giovanni Giorgi. È un corso nel quale avrai la possibilità di studiare in modo approfondito la sezione ritmica nel suo insieme e, grazie a una tecnologia mai vista prima, il lavoro di batteria e basso. La cosa pazzesca è che i batteristi avranno la possibilità di studiare e suonare con me e gli altri bassisti presenti nel progetto e, allo stesso modo, grazie alle potenzialità di portale, i bassisti potranno suonare con Giovanni. Avrai a disposizione le trascrizioni estremamente dettagliate di batteria e basso, visualizzate perfettamente in sync con i miei. E la possibilità di studiare a loop qualsiasi sezione dei brani contenuti nel corso, modificando volendo la velocità. In questo corso la musica ha un ruolo centrale, quindi al fine di contestualizzare il lavoro della ritmica, in ogni brano è sempre presente una traccia di armonia, eseguita con il tastiere o il pianetone, che potrà essere utilizzata anche nel caso in cui un batterista e un bassista decidano di studiare insieme. Credo che sia un'occasione preziosa per avvicinarsi a un linguaggio moderno e virtuoso della sezione ritmica. Di sicuro questo materiale entrerà nei miei programmi di lanci. Ciao a tutti e buon lavoro! Grazie a tutti!